Lui è Gabriele, lo conoscono un po' tutti, anche lui, lui è arrivato a gennaio 2006 in un momento in cui la marca aveva bisogno di qualche rinforzo in porta perché tra infortuni e vari avevamo bisogno. Lui è un ragazzo che appena arrivato ha saputo conquistare un po' tutti, compreso anche l'allenatore del Nazionale Under 21, tant'è vero che ha avuto sette convocazioni del Nazionale Under 21, sette presenze, ha fatto anche il torneo di San Pietroburgo ed è uno dei nostri punti di forza. Bene, complimenti anche a lui allora. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti